Entriamo in un tunnel, perché di questo si tratta, che è quello della depressione. E' questa una sindomatologia molto dedicata, su cui bisogna essere prudenti, quando si tratta di assumere dei provvedimenti, mi riferisco ad alcuni provvedimenti varati nelle ultime ore, negli ultimi giorni, dai vertici dell'azienda sanitaria provinciale per quanto riguarda il centro di salute mentale di Rossano. Un trasferimento che ha determinato la reazione di utenti, pazienti da molti anni sotto terapia con una psichiatra e su questo noi riteniamo, non vogliamo entrare nel merito ovviamente delle ragioni per cui da un punto di vista organizzativo si decide di operare dei trasferimenti, ma perlomeno un momento di prudenza, di riflessione, quando si tratta di patologie di questo tipo è necessario. Continuità assistenziale, rapporto di fiducia che si crea con i pazienti, c'è chi magari pone poi la questione della dipendenza, per chi vuole far polemica bisogna evitarla, nel rapporto medico-psichiatra-pazienti. In questi casi però, in questo caso specifico, non era e non è un medico, uno psichiatra che specula, perché lo ascolterete in questa intervista, non ha interessi economici, non ha voluto denaro. La persona che ascolterete da qui a poco narra i fatti nel merito, dimostrando come l'azienda sanitaria talvolta assume provvedimenti senza tenere in considerazione quella fascia sociale che vive stati drammatici, verso cui invece dovremmo prestare molta attenzione. Ascoltiamo questa intervista che è nell'anonimato riservata. Alfredo è un nome di fantasia, in questa intervista, a 48 anni, nasce con una marcata attitudine nel settore del commercio. Si afferma ed ottiene ottimi, grandiosi risultati negli anni. Proviene da una famiglia armoniosa in cui sono solidi i valori affettivi. ha un rapporto straordinario con i propri genitori, in particolare con il padre. Una persona entusiasta della vita è Alfredo. Si sposa, mette al mondo dei figli. Tutto trascorre serenamente, quando ad un tratto, nel 2009, il papà viene barbaramente ucciso dai gnoti malfattori, mai individuati, vittima di una repina. Da allora si aprono le porte della depressione. Chi è Alfredo? Alfredo sono io, ho tre figli, ho una sprendita famiglia. Cosa posso dire? Ho lavorato sempre, l'amica mia è cominciata nel 92 a lavorare, nel 92-93, e ho sempre lavorato. Ho avuto a fianco mio padre, che mi dava buoni consigli. E poi, niente, come hai detto tu, barbaramente è stato rapito, è stato ucciso senza nessun colpevole. E da là, mi è caduto il mondo addosso. Mi è caduto il mondo addosso, diciamo che un anno, meno di un anno, le cose andavano sempre peggiorando. Mi vedevo che la salute mia andava giù. Salivo con la macchina, avevo paura. Delle volte andavo a Roma e mi dovevo fermare mezzo alla strada. Mi prendevo un attacchio di panico e paura. Poi mi sono rivolto dal mio medico di fiducia e mi ha consigliato una dottoressa che, grazie a lei, sono oggi che sto parlando con te. Perché ho avuto una grande depressione, mi è durata 4 anni e mezza, però nelle 4 anni e mezza sono andata sempre, ogni giorno, migliorando. La prima volta sono andata all'ospedale a Corgliano. Ho parlato con un medico, mi aveva preso in cura e questo medico mi aveva sedato. Dormivo notte e giorno. Non avevo più rapporti con la gente. Non uscivo più di casa. Avevo molta paura. Poi mia moglie, poverina, ha chiamato il mio medico. Il mio medico, conoscendomi e vedendomi in quella maniera, diceva, ma non sei tu. E mi ha consigliato questa grandissima dottoressa che mi ha preso in cura e per tempo, piano piano. Allora, dalla prima fase quando mi ha visto, si è messa anche lei paura, a come mi ha visto. Io allora avevo 44 anni, adesso ce ne sono quasi 49. Come mi ha visto, ma ti hanno sedato. Era una persona che non capivo niente. Dormivo, anche quando parlavo con lei dormivo. E subito quando ha visto le medicine si è messa le mani nei capelli. Ha detto, questa non è una terapia giusta. Mi ha fatto parlare e mi ha capito subito. Mi ha cambiato la terapia e dopo, diciamo, 40 giorni già io mi sentivo al 50% io. Uscivo, dormivo di meno, ragionavo un po' con le città. Le paure le avevo, però me lo diceva sempre. Ci vuole del tempo. Però, stai tranquillo che non ti abbandono. Così è stato, eh. Mi ha messo, nelle 4 anni e mezzo mi ha messo al 100%. Mi chiamava, mi seguiva, se non potevo andare all'appuntamento mi aiutava lei, pure telefonicamente. O veniva lei a casa e mi cambiava la terapia intanto, intanto. Prima facevamo ogni 15 giorni la visita, poi ogni 25, poi il 35, mano a mano che mi vedeva migliorato mi andavano avanti. Pure purtroppo, devo dire purtroppo che anche mia moglie, vedendomi in quella maniera, è andata pure lei un po' in depressione che incura anche con la dottoressa che mi cura a me ancora tutt'oggi. e dal 19 dicembre che ho avuto una telefonata, dovevo fare la visita, ho ricevuto una telefonata dicendomi che l'appuntamento era stato spostato. è capitato delle volte, però diciamo che la dottoressa altri impegni per persone più gravi di me, perché io avevo ripreso la strada giusta. due, tre giorni, quattro giorni. Adesso siamo del 19, che non ho avuto nessuna risposta. Poi io mi sono preoccupato, perché la terapia mi sentivo un po' male, la terapia mi doveva essere cambiata. non ho avuto nessuna risposta, ho chiamato. Ho chiamato e ho avuto la brutta notizia che la dottoressa non c'è più. Come ho recepito anche questo messaggio da tanti pazienti di cui quando eravamo là che ci visitava si parlava del più del meno e ci conoscevano quasi tutti. In quattro anni e mezzo, figurate quanta gente ho visto andando a fare delle visite. e poi ci incontravamo giù allo scalo ma noi abbiamo cambiato la dottoressa. Ho chiamato e la dottoressa giustamente non vuole fare niente perché l'hanno cambiata. E io mi chiedo e dico la mia terapia chi la cambia? Io non posso andare a parlare con un dottore che nemmeno se è rito non mi conosce. O mi posso ricordare tutti i medicinali che la dottoressa mi ha cambiato oppure cominciare da capo io non so nella fine e nell'inizio non so dove cambiare perché allora la dottoressa a me mi conosce filo per segno mi dice quando devo aumentare e quando devo smettere quando devo prendere la metà mi dice tutto. Io non non so dove sbattere la testa. L'elemento scatenante mi pare di capire sia la morte di suo padre che siamo in un altro decennio fa. Dopodiché si crea un rapporto leva in depressione con questa dottoressa con la quale si crea un rapporto di fiducia e quindi si pone in essere diciamo un problema di continuità assistenziale all'indomani di questo provvedimento recente di trasferimento dal centro di salute mentale di Rossano della dottoressa. Da questo punto di vista è chiaro che forse occorrerebbe una gradualità quando si assumono determinati provvedimenti. Cosa intende fare rispetto a questo? Niente io sto sentendo la dottoressa Che sensazioni mi sento male come pure mia moglie non sappiamo più la terapia io sto continuando la terapia però sto andando a peggiorare perché sudo da fermo mi stanno capitando le stesse cose che ho fatto prima ho parlato con il mio medico di fiducia il mio medico di fiducia ha chiamato la dottoressa però la dottoressa le mani legate non sa quello che deve fare io lo sto pregando di visitarmi non so come devo fare però la dottoressa dice io non posso fare niente non so come fare adesso ti ti danno un altro medico vedi tu quello che devi fare come ha detto pure il mio medico di fiducia anche il mio medico di fiducia dice ma come fa questo questo ragazzo questo paziente come fa ad andare ad un altro medico se voi lo conoscete telefonicamente mi ha dato delle medicine sto andando meglio però non mi ha visitato la terapia vuole vuole i suoi percorsi come voglio dire non so come dire senta solitamente quando si tratta di intrattenere dei rapporti paziente utente psichiatra uno dei rischi da un punto di vista fenomenologico che si intravede è quello diciamo quello della dipendenza ok difficile si rinviene il distacco e questa intervista probabilmente è la conferma di quello che stiamo dicendo in questo caso secondo lei c'è un problema di dipendenza dipendenza no dal professionista dallo psichiatra no io la dottoressa mi ha seguito non c'è nessuna dipendenza io sono andato sempre con all'asle non non mi ha mai portato a altre parti non me l'ha mai chiesto in quattro anni e mezzo come si possono vedere è tutto certificato medico curante cup ospedale chiamiamo l'ospedale che non ho il concetto come si chiama e questa è stata la mia medico curante cup dottoressa mai mai sono andato io e lo posso mettere per iscritto da random notari dove volete voi che la dottoressa mi avesse portato in un studio privato mai anzi mi ha cercato sempre di liberarmi mi dice mi dava comporto che adesso sei guarito è un po' la mente tua che è esagerata stai tranquillo che non hai niente non avere paura mi ha sempre curato anzi ti dirò di più l'ultima volta che mi ha visto ha detto Alfredo hai la pressione alta subito si è preoccupata mi ha fatto la pressione mi ha dato delle gocce mi ha stabilito subito la pressione subito e poi mi ha chiamato mi chiamava al telefono come andavo come non andavo mi ha indirizzato dove doveva andare per il fatto del cuore per farmi la pressione me l'hanno intonato 48 ore mi ha chiamato quando avevi risultati se avevo fatto tutto mi teneva sempre sotto controllo H24 io adesso mi chiedo Matteo io come faccio di nuovo ripeto che l'ho detto poco fa lo dico di nuovo come faccio ad andare ad un altro dottore che io poi ho saputo che questi medici che sono stati assegnati all'ospedale di Rossano sono eminenti a pensione sono 4-5 mesi 6 mesi vanno in pensione io dovrebbe prepararsi ad un nuovo cambiamento allora vado a iniziare con un altro medico una strada dove è pericoloso perché è un fatto mentale è un come il dottore che hanno messo all'ospedale benza che un paziente da 5 anni in cura con un altro medico non lo può prendere subito deve andare mano a mano e quindi chiedere del tempo poi sono farmaci pericolosi sono farmaci di una certa importanza non voglio dire che il dottore mi dà una terapia sbagliata ma può anche essere l'appello è che prendessero in grazia questi pazienti che siamo in tanti tra Rossano Cariati che rientra la dottoressa e come voglio dire ci mette la mano il signore perché noi siamo pazienti non facili da gestire se no non so che via devo prendere metto un avvocato non so cosa devo fare perché la mia cura di nuovo ripeto è dal 19 dicembre ad oggi che stiamo parlando che a me la dottoressa me l'ha detto telefonicamente ho dovuto andare dietro la porta a casa che mi sono sentito la faccia per stare e lei è mortificata mortificata che le sono uscite anche le lacrime perché la dottoressa la dottoressa tiene più i suoi pazienti che a lei stessa come faccio a dire questo perché la dottoressa quando ti visita non è finita là mi visitava dopo tre giorni mi chiamava come stai andando stai prendendo i medicinali stai facendo la dieta stai mangiando questo non bere a collo sempre che mi tenere mi minotterava peggio di mia moglie aveva due donne ai fianchi poi di nuovo ripeto pure c'è pure mia moglie mia moglie ha un sacco di farmaci perché mia moglie ha appena iniziato la terapia che parliamo di 6-7 mesi che ce l'ha sia il psichiatra che il psicologa mia moglie perché mia moglie tenendomi a me una persona in difesa con tre figli meno male che avevamo qualche soldo da parte qualche risparmio ho avuto aiuto anche dei miei suoceri e quello che non c'era mio padre se c'era mio padre forse non è successo anche tutto questo non do la colpa a mio padre io ancora ho dei sentimenti perché come si può dire chi ha una famiglia solida anche che tu fai nel giusto quando tuo padre ti mette la mano sulle spalle e ti dice stai attento già ti sento un'altra persona ti sento sicuro significa che l'affare l'hai già fatto perché hai 4 occhi ma come fossero 6 perché c'è un'esperienza c'è un uomo dietro anche che io non dico che sono un santo ho pure sbagliato degli investimenti nel commercio si sa però quando avevo mio padre a fianco mi sentivo molto carico se lo dovevo affrontare pure che sapevo che potevo guadagnare poco e non conveniva farlo l'affare lo facevo lo stesso perché avevo la sicurezza di mio padre non fa niente che guadagno poco ci voglio provare mio padre mi spingeva però mi faceva capire dove era dove potevo sbagliare se lo fai fai attento non fare così perché così cadi subito così ti mantieni un po' sulla strada e quelle cose mi sono mancate e per questo sono andato in depressione poi da là forse da là mi hanno mandato non dottoressa questa santa perché io non la ritengo chiamare dottoressa perché mi ha fatto meglio di una sorella ma come te voglio non ho parole come descritto ma non solo a me Matteo se abbiamo modo di investire un altro paziente uguale a me con le stesse condizioni che secondo me se lo vedono ti chiamano parecchie persone se percepiscono il messaggio ti chiamano parecchie pazienti perché la dottoressa che io sto parlando è una santa al di là della dottoressa è una persona che si mette dentro capisce il tuo problema e ti cura sia psicologicamente che con i farmaci ti fa capire ti accarezza ti tiene la mano ti calma ti fa pensare che ce ne usciamo stai tranquillo che ce ne usciamo mi ha detto sì ma Alfredo non ti preoccupare che io ti metto come eri e infatti ha mantenuto la promessa però promessa mantenuta però sto andando di nuovo a inficcarmi in questo tunnel che lo e poi mi ha detto l'altra volta sì chiamami però sappi che io ho le mani legate non posso fare niente questa questa è la mia storia la décision programmabile per laести per la mia storia Grazie per la visione!